qui all'iesolo air show, anche grandi le competenze degli uomini e delle donne che operano con l'aeronautica militare ecco quello di cui parlavamo prima, ora vediamo Massimo allora abbiamo il KC 767, 2.090 litri al minuto poi a un punto centrale, a tubo e cestello con capacità fino a 2.700 litri al minuto e dei punti di estremità alare, con capacità fino a 1.820 litri al minuto quindi possibilità incredibili per questo velivolo l'altro invece è che sei fuori rotta, contattami l'importante è aver riportato il volo nella normalità della sicurezza esatto, molto spesso anche accompagnando il velivolo fuori dallo spazio aereo nazionale una volta che si è verificato control stick tirata tutta indietro per mantenere la massima velocità doppio tonno in uscita, a differenza della virata tradizionale la Schneider a G negativi aggiunge un ulteriore livello di difficoltà grazie! 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 instabile per migliorare agilità e manovrabilità. Il centro di pressione ci sta più avanti. Tonno lento a dimostrare che l'aerodinamica complessa e regolata dall'elettronica nel sistema di controllo fly-by-wire è completamente digitale e determinante per il controllo della stabilità. Una manovra che lega il pilota, lo blocca nel cockpit a causa degli elevati fattori di carico.